buonasera e ben ritrovati al nostro piccolo spazio dedicato alla poesia questa sera vi voglio presentare un ragazzo veramente eccezionale si chiara di giorgio catorzi ultimamente l'avete forse seguito nella sua avventura nel creare una una messa cantata per la madonna del conforto lui ha 16 anni è veramente un musicista eccezionale e io ho avuto l'onore di partecipare con lui a una trasmissione di teleturia la scorrida e lui ha cantato su base di image di john lennon la mia poesia immagine blu ascoltatela e capirete che veramente è una persona veramente eccezionale ciao e rivederci la prossima puntata l'amore è la vita e con la vita di me l'amore di gioia è pieno e ti fa sentire sereno l'amore è l'amore dove ci sei tu l'amore è un'immagine blu cerco sempre con le dita un'immagine blu cerco sempre con il cuore una casa per il mio amore cerco ancora e ancora più su e tra un'immagine blu la vedo tanta gente che di noi non sa niente l'amore è un'immagine blu e con tutti i nostri ricordi e ogni sera faccio darmi l'amore è che tu ci sei e ci sei solo tu in quella bella immagine l'amore è un'immagine blu l'amore è un'immagine blu l'amore è un'immagine blu